guerra in ucraina le ripercussioni sull'economia marchigiana tagli d'alberi al miralfiore belloni spiega gli interventi cimitero lavori nella parte nuova cedimenti in quella vecchia stretta di mano fra il natale delle proloco e i mercatini di bolzano calcio vis senza pause collentella quinta gara in due settimane buonasera amici amici di rossini tv ben ritrovati ad una nuova edizione di rossini news il nostro telegiornale in questa edizione di venerdì 25 febbraio che apriamo occupandoci dell'inizio della invasione bellica della russia in ucraina che innanzitutto è una problematica umanitaria una crisi geopolitica ma è anche un evento che crea delle ripercussioni economiche anche nel nostro territorio anche nelle marche che negli ultimi anni hanno stretto rapporti commerciali e di export importanti e come ci spiega il segretario provinciale di cna moreno bordoni le prospettive al momento sono di grande incertezza soprattutto per un territorio come il nostro che ha rapporti continuativi con la russia e con l'ucraina facendo anche fatturati importanti la regione marche negli ultimi anni ha esportato più di 300 milioni nei confronti diretti nei confronti della russia e quasi 90 milioni nei confronti dell'ucraina queste sono soltanto le esportazioni dirette dietro c'è tutto il contoterzismo che poi lavora nel nostro territorio quindi parliamo di fatturati molto importanti ovviamente le sanzioni e le controsanzioni per noi sono devastanti lo sono state in passato e come cna le abbiamo sempre stigmatizzate lo saranno lo saranno anche adesso perché oltre alla perdita di fatturato e l'incertezza sul fatturato poi c'è tutta la questione dell'energia delle materie prime considerate che ieri dopo un decennio che il petrolio ai massimi livelli comunque si è attestato sopra i 100 dollari al barile è arrivato a quotare fino a 105 poi si è fermato a 102 il gas ad amsterdam ha fatto più 51 per cento oltre 100 euro a megawatt ora quindi tutto questo sicuramente si ripercuoterà negativamente sulle bollette delle nostre famiglie e delle nostre imprese che già erano al limite non riuscivano a sopportare gli aumenti indiscriminati che c'erano stati gli ultimi mesi quindi la situazione è molto molto preoccupante soprattutto per una regione come la nostra ancor di più per una provincia come la nostra che ha fatto di quei paesi comunque un partner economico commerciale fondamentale un pilastro negli ultimi anni io lo posso dire perché da cinque anni sono diciamo i rappresentanti in italia della camera di commercio dell'industria nazionale belorussa la belorussia insieme alla russia all'armenia al kazakhistan e al kirghigistan fa parte dell'unione doganale euroasiatica quindi conosco bene quei mercati e purtroppo se la situazione bellica non terminerà a breve al di là giustamente dell'emergenza umanitaria che mettiamo prima di tutto e la guerra va stigmatizzata in qualsiasi luogo del mondo a prescindere però la situazione economica per noi rischia davvero di diventare molto molto pesante quali i settori che stavano lavorando maggiormente con questi paesi assolutamente i settori manifatturieri meccaniche mobile che tra l'altro nel ruolo che ricoprono anche come presidente di tecnica l'azienda speciale della camera di commercio delle marche proprio per questi due settori stavamo lavorando bene abbiamo fatto anche degli incontri b2b e dei webinar con gli operatori di quei di quei paesi perché sono mercati interessanti nonostante un calo che c'era stato gli ultimi sette otto anni il 2021 rispetto alla russia aveva fatto un più 21 per cento per la nostra manifattura quindi la situazione è davvero preoccupante bisogna assolutamente scongiurare che questa guerra vada avanti in questo contesto di tensione ha destato una sinistra curiosità assistere ieri alla stazione del treno di pesaro del transito di questo convoglio merci carico di mezzi militari non conosciamo nella destinazione nell'utilizzo del carico ma riportiamo questo episodio che ci ha segnalato attraverso un video un nostro telespettatore che ringraziamo vi ricordiamo come sempre il numero whatsapp di rossini tv dedicato alle segnalazioni 3 7 0 3 6 6 7 2 1 0 e ora cambiamo argomento si è conclusa al parco miralfiore di pesaro una importante operazione di pulizia del sottobosco che ha portato all'abbattimento di alcune piante un intervento ferocemente contestato da associazioni ambientaliste ma che viene argomentato in questi termini dall'assessore comunale enzo belloni è terminato in questo mese di febbraio un importante intervento di pulizia del parco miralfiore pulizia del sottobosco di alcune specie arbore che ha interessato l'area tra l'arco di ingresso al parco e l'area delimitata fino alla villa dove ci troviamo ora le chiedo che cosa è stato fatto nello specifico e il motivo di questo intervento innanzitutto intendo sottolineare che qui stiamo parlando di un parco urbano un parco a cui l'amministrazione tiene molto e crede molto e negli ultimi periodi sono stati fatti interventi importanti dal parco giochi inclusivo donato alla renco ai nuovi giochi che l'avis ci ha donato e che inaugureremo fra pochi giorni abbiamo lavorato sulla piantumazione di un'area a ridosso di via solferino dove verranno seminati 19 specie di fiori quindi avremo una zona di prato fiorito e gli eventi culturali e musicali all'interno del parco saranno continueranno ad essere implementati perché noi vogliamo un parco sempre più vivo la regione ci ha dato un contributo di 15 mila euro per realizzare un'area sportiva sempre all'interno qua del parco e nel frattempo stiamo dando l'incarico alla ditta per sistemare la recinzione attorno al laghetto un luogo molto frequentato dai bambini e dalle scuole abbiamo anche provveduto alla pulizia di questo tratto di parco appunto quello che va dall'arco alla villa cosa che avevamo fatto due anni fa e aveva già scatenato un po di polemiche noi non pensiamo di avere fatto la deforestazione dell'amazzonia pensiamo di avere ripulito e manutenuto un pezzo di un'area verde che era invivibile non ci riusciva a passare nessuno tant'è che è quello che è stato tagliato è stato cippato come si dice quindi rimane sul terreno abbiamo raccolto circa tre camioncini di rifiuti pesanti e non bellissimi quindi quello che vogliamo noi è che chi passeggia qui abbia una percezione di pulizia di tranquillità di sicurezza e soprattutto di verde abbiamo anche segnato qui assieme all'agronomo ovviamente quelle che sono le piante secche quindi ritenute morte già e procederemo al taglio di queste piante solo nel momento in cui sarà possibile piantare delle nuove quindi questo non è il periodo il periodo giusto per intervenire nel frattempo abbiamo anche risistemato la vecchia brutta fontana davanti al bar abbiamo realizzato un murale scherichiamo la natura e l'artista ha voluto anche riproporre tutti gli elementi animali e vegetali che si trovano nel parco è realizzato un piccolo giardino quindi l'attenzione particolare è chiaro che qualsiasi cosa si fa diamo la spalla alle polemiche c'è chi fa polemiche perché è un ambientalista vero c'è chi fa polemiche perché usa qualsiasi strumento per attaccare l'amministrazione io mi sento tranquillo e sereno per il lavoro che abbiamo fatto io penso che la città in stragrande maggioranza apprezzi questo intervento ancora lavori come quelli che in questo mese di febbraio stanno interessando il cimitero centrale lavori attesi da tanto come quello della riqualificazione del padiglione dei fiori attualmente in corso lavori anche inattesi come quelli che hanno portato ad una ordinanza di inaccibilità ad una delle parti più antiche del camposanto è per antonomasia il luogo del riposo in pace ma qui al cimitero centrale san decenzio dove ci troviamo ora c'è sempre tanto movimento di nuovi cantieri che si aggiungono nuovi cantieri per buone notizie e notizie meno buone tra le buone c'è quella della lavoro al padiglione dei fiori vedete la scalinata alle mie spalle fino a poche settimane fa era inagibile lo è stato per tanti mesi in questo che è un padiglione della storia travagliata al centro di un contenzioso lungo che ha coinvolto il comune di pesaro tanti mesi di luoghi inaccessibili ora in questo mese di febbraio si sono intensificati i lavori per il ripristino della struttura dopo infiltrazioni e altre problematiche edili il comune sta facendo veramente bene l'impresa che ha iniziato i lavori e sta procedendo celermente crediamo insomma che nel giro di qualche settimana potremmo avere i lavori finiti il lavoro era grande c'è tuttora un contenzioso giudiziario tra l'impresa che ha costruito e il comune il comune però ha deciso comunque di venire incontro a quelle che erano le esigenze proprio degli utenti dei familiari insomma delle salme che sono tumulate all'interno del padiglione dei fiori alcune vie di accesso sono state riaperte sono state messe in sicurezza alcuni percorsi tutti i loculi sono visitabili e quindi diciamo che nel giro di qualche settimana dovremmo riuscire a vedere finalmente compiuta e sistemata regola d'arte quella che era una stortura insomma all'interno del cimitero il cimitero centrale enorme è grande ha più di un più di un secolo di vita insomma rispetto almeno nelle parti che sono in muratura i lavori sono costanti continui di manutenzione ordinaria sulla straordinaria ci sono alcune parti che necessitano e questa era una di quelle di quelle cose il comune devo dire sta facendo veramente un ottimo lavoro e poi ci sono i cantieri che si aggiungono per nuove problematiche uno di questi riguarda una delle parti più antiche del cimitero monumentale una parte degli anni 60 da tempo transennata ora è scattata anche l'ordinanza di inagibilità dopo diversi problematiche emerse in questi ultimi giorni con alcuni cedimenti questa è una zona che già attenzionata da diversi anni col terremoto avevamo già transennato una parte proprio perché si possono creare situazioni di pericolo per i visitatori per i parenti anche i congiunti dei sepolti e abbiamo insomma un pochino di difficoltà che in questi giorni stiamo affrontando il comune ha fatto l'ordinanza per cui non si può non ci si può avvicinare aspettiamo decideremo presto che tipo di intervento fare se la demolizione poi un'eventuale ricostruzione come probabile lo spostamento temporaneo delle salme in altri spazi all'interno del cimitero oppure se fare un intervento ma molto complicato probabilmente impossibile di ripristino della struttura attuale con un restauro un recupero che come dico di primo a chitti tecnici hanno detto molto molto complicato proprio perché il danneggiamento è tanto e non è così di facile recupero anche oggi si registra un calo di 11 unità dei ricoveri da covid-19 nella regione Marche che ora raccontano 249 pazienti in degenza di cui 27 in terapia intensiva oggi sono 1579 i casi di contagio di cui 260 in provincia di pesaro e urbino tre i nuovi decessi nello specifico un uomo di 69 anni di senigaglia uno di 88 di ascoli piceno e una donna di 85 anni di corridonia e cambiamo completamente argomento il natale che non ti aspetti stringe la mano al mercatino di natale di bolzano una importante intesa di reciproca valorizzazione che è stata siglata oggi nella sede della regione Marche storica intesa per il natale che non ti aspetti delle proloco di pesaro urbino che oggi sotto la benedizione della regione Marche ha stretto un patto con l'azienda di soggiorno e turismo di bolzano che attraverso i suoi mercatini di dicembre rappresenta il più natalizio dei luoghi e degli eventi italiani pesaro urbino e bolzano si uniscono dunque in un tavolo di lavoro nazionale per sviluppare sinergie turistiche valorizzare iniziative legate al natale e unire i rispettivi mercatini all'insegna del made in italy le star del natale italiano si uniscono con un accordo quadro che valorizzerà e distagionalizzerà il turismo anche nella nostra regione d'altronde le proloco marchigiane con le proprie iniziative sul natale sposano il progetto di bolzano che tutti sappiamo riconosciuto in campo internazionale come la principale manifestazione dedicata ai mercatini di natale in italia e in europa non le vogliamo unire anche da un punto di vista infrastrutturale di comunicazione fisica stiamo organizzando ormai da tempo il christmas rail che sarà il mezzo con cui faremo dialogare l'alto adige le dolomiti con le nostre stupende spiagge con il nostro stupendo introterra e con le nostre montagne per un progetto che è nazionale e come tale verrà trattato dall'alto adige dalla regione marche prima di tutto da oggi possiamo chiamare un progetto nazionale che vedrà coinvolte il natale che non ti aspetti i mercatini di natale di bolzano che collega due realtà veramente importanti è un punto di partenza abbiamo oggi oggi abbiamo gettato le basi per un progetto di larga scala che prevede la collaborazione tra i due enti di scambio di prodotti tipici locali e di attrazioni turistiche e soprattutto stiamo puntando per un prodotto per un progetto nazionale con il treno con ferrovie dello stato questo progetto di collaborazione è nato molto molti anni fa a mont baroccio questo posto meraviglioso borgo medievale e poi soprattutto per la volontà dei protagonisti di Damiano Bartocetti che ha portato avanti con volontariato della cosa se rimaniamo molto stupiti dalla dottoressa Agosti che è la direttrice dell'azienda di soggiorno di bolzano che ha una sua struttura appunto sottolineo questa vostra bravura perché è stato effettuato da parte vostra qui col volontariato prossimamente l'università di urbino conferirà il sigillo d'ateneo a nicola gratteri procuratore della repubblica di catanzaro e figura di grande spicco nella lotta alla criminalità organizzata e in particolare all'andrangheta sarà un conferimento frutto della collaborazione fra l'università e l'associazione culturale corrado alvaro calabresi nelle marche marco lucchetti è il nuovo presidente dell'ordine dei commercialisti ed esperti contabili di pesaro e urbino fanese di 58 anni lucchetti è consigliere uscente e già revisore del consiglio nazionale e guiderà l'ente per i prossimi quattro anni la sua lista di continuità al consiglio precedente presieduto da paolo balestreri ha incassato ha incassato 351 voti contro i 167 di quella concorrente che candidava alla carica dell'ordine il commercialista maurizio sallese sono già state consegnate a 128 classi delle scuole primarie tante copie di pisaurum felix la nuova guida illustrata alla pesaro romana del comune di pesaro patrocinata dall'ente olivieri e pensata per i più piccoli della città si tratta di una guida scritta e curata dall'archeologa del ministero della cultura chiara del pino e illustrata da john betty uno strumento educativo innovativo presentato ieri in una conferenza online dal comune di pesaro dopo l'anteprima alla borsa del turismo archeologico di pestum e come facciamo da diversi giorni continuiamo ad illustrarvi alcuni appuntamenti della settimana rossiniana con il weekend del buon non compleanno rossini che prevede domani alle 17 30 alla chiesa dell'annunziata la conferenza della fondazione rossini zelmira da napoli a vienna e invece domenica alle 11 alla chiesa della santissima annunziata ci sarà il concerto aperitivo della filarmonica giochino rossini con tre delle sei sonate a quattro composte da rossini nel 1804 a soli 12 anni sul palco per una esecuzione molto rara l'ensemble dei fiati della filarmonica e infine domenica alle 18 allo sperimentale l'omaggio rossini dell'ente concerti con l'esecuzione di rarità assolute a cura di un duo giovanissimo e talentuoso francesco stefanelli al violoncello e elia cecino alle pianoforte e poi le teatro domani alle 21 e domenica alle 17 la piccola ribalta porta nel teatro pesarese di via dell'acquedotto chiape di parelnes commedia in dialetto pesarese scritta d'antonio nicoli con la regia di alba russo e ancora il 12 marzo arriverà in provincia di peso rubino il grande evento ciclistico della penultima tappa della 57esima edizione della tirreno adriatico che attraverserà gran parte dell'entroterra con partenza da pecchio e arrivo a carpegna domani alle 17 la tappa verrà presentata al palazzo dei principi di carpegna alla presenza di tanti personaggi che hanno fatto la storia del ciclismo si tratta di un appuntamento che potrete seguire con uno speciale dedicato che rossini tv trasmetterà mercoledì 2 marzo alle ore 21 e 20 ed ora siamo arrivati al nostro consueto appuntamento quotidiano con gli aggiornamenti della spedizione della regione marche all'expo 2020 di dubai oggi ci occupiamo di un'azienda di cartoceto la diateva srl che è ospite negli emirati arabi per i suoi studi all'avanguardia nel monitoraggio dei virus e della loro trasmissibilità dall'animale all'uomo uno studio importante sia alla luce della pandemia sia della più recente peste suina buongiorno io sono stefania mariani sono l'amministratore delegato della diateva una società che sede a fano nelle marche si occupa di biotecnologie sono molto contenta e ringrazio la regione marche per avermi invitato qua oggi in questo importante evento parallel pandemics per discutere quelle che sono le innovazioni in campo biotecnologico per la detection dei virus che soprattutto in questo momento coinvolgono come la peste suina il mondo animale fare orli detection è importantissimo per uno dei gol di questo expo il gol che riguarda il mantenimento della nostra salute adesso la regione marca come tutte le altre regioni sta facendo i conti con il pericolo della peste suina africana che è già arrivato in italia purtroppo e la modalità con cui gestiremo questa nuova pandemia animale farà veramente la differenza perché il danno economico l'impatto economico sulla popolazione sulla popolazione sulla zootecnia e la zootecnia è veramente devastante e quindi abbiamo bisogno di aziende che riescano a studiare immediatamente come si può creare un blocco a questa a questa diffusione dobbiamo riuscire a valorizzare le aziende che possono collaborare con con il sistema veterinario con il nostro sistema di sanità pubblica affinché la peste suina venga intanto monitorata adeguatamente perché il monitoraggio è fondamentale in questi casi e soprattutto si riesca a contenerla magari anche con un vaccino che in qualche modo possa sbloccare e interrompere questa diffusione ecco noi saremo davvero orgogliosi se via te la potesse realizzare questo vaccino sarebbe una grande opportunità per noi ed è il motivo per cui diciamo nelle marche abbiamo tante eccellenze ma quella della biotecnologia si riguarda davvero tutti perché riguarda la nostra vita il futuro del cibo che mangiamo e dei dei nostri concittadini quindi è importante sapere fare è importante saperlo anche promuovere e quindi noi oggi volevamo promuovere tra le altre eccellenze quelle di la tela e concludiamo il nostro telegiornale con lo sport è davvero senza pausa il campionato della vispesero che domenica ospiterà al benelli lentella disputando così la quinta partita in appena due settimane un tour de force in avversario che sono stati commentati oggi da mister banchini come potete vedere in un estratto della conferenza che vi riportiamo ora seguita dal nostro giorgio ricci è imprevedibile c'è un livello molto alto e tranne la reggiana e il modello le altre sono tutte livellate io penso alla mia squadra penso a capire ripeto come possiamo essere protagonisti dentro le partite e mi sembra che in questa fase i ragazzi stanno dimostrando i continui step di miglioramento all'intella forse la rosa a livello di qualità di giocatori migliore che c'è ancora di più del modello della reggiana che al contrario invece hanno forse un mix più funzionale però a livello di qualità dei singoli sono veramente al top dopodiché hanno delle assenze come le abbiamo noi vedremo quali saranno i veri titolari ci sono tante variabili parlare della partita oggi veramente parliamo di 5 partite in 12 giorni 14 giorni è troppo difficile dobbiamo essere pronti a tutti leggere l'imprevisto saperlo risolvere e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale rossini news non si conclude però lo spazio dedicato all'informazione quella del valle foglia il pian del bruscolo magazine che puntuale come ogni venerdì arriverà alle 20 subito dopo il tg con le notizie seguite dal nostro edoardo orazzi appuntamento alle 20 prima replica alle 23 e 15 la prima serata invece dedicata ai libri all'incontro con l'autore davide pagnini autore del diario del destino si tratta del primo romanzo di questo cantautore musicista ora diventato scrittore come testimoniato in questo speciale che riporta la presentazione del libro avvenuta domenica alle limonaie di muraglia potete rivedere tutto questa sera alle 21 e 20 e domani torna l'appuntamento con uipesero tv alle 13 30 sabato 26 febbraio questo nostro format dedicato al comune di pesero alle tematiche trattate settimanalmente dal comune ospite del nostro antonio astuti questa settimana sarà marco perugini presidente delle consiglio comunale e poi la domenica mattina è diventato appuntamento fisso quello con le sante messe trasmesse in diretta da rossini tv questa domenica alle 11 rossini tv sarà in diretta dalla parrocchia santa maria regina di borgo santa maria ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle tg ora ci sono le previsioni del tempo e io vi auguro una buona serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi